Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B, mi presento io sono Alessia ma potete chiamarmi Ale. In questo video vi do qualche consiglio per quando sentite che la vostra voce non è molto limpida ma la sentite un po' sporca. Date un'occhiata al mio canale se vi piacciono i miei video, ricordatevi di iscrivervi così mi date una mano a mandarlo avanti questo questo canale e così potrò caricare sempre più video e mi aiuterete a mantenerlo. Oltre ciò vi ricordo che sono anche su instagram e sono su facebook dove potete scrivermi personalmente le vostre domande e spero di riuscire a rispondervi al più presto. Allora in questo video appunto come dicevo nell'intro vi voglio parlare di quando sentite che la vostra voce non è molto pulita molto limpida ma la sentite sporca. Cosa potete fare proprio nell'immediato se dovete andare a cantare se avete un concerto se avete un'esibizione prima di montare sul palco dopo riscaldamento classico che dovete fare sempre mi raccomando fate degli esercizi vocali con le sillabe mi o ni che sono delle sillabe che portano la voce verso il naso e che aiutano appunto a rendere la voce più brillante quindi potete anche decidere voi la scala ma una cosa molto semplice potrebbe essere mi 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 oppure ni 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 magari partite con mi e poi andate avanti con mi sentirete facendo specialmente ni 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 la voce vibrare dentro al naso questo aiuta appunto ad averla a farla risultare più brillante. Le scale potrebbero essere diverse mi 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 nini ni 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 oppure mi 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 mimi mi 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 Provate e spero che questo consiglio vi sia stato utile, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ricordatevi di iscrivervi, grazie, un bacio, thumbs up!